video veloce sulla mia camerata gramstown nel mandela bay quindi sotto vicino a porta elisabeth stasera poi andrò in un pub ovviamente in taxi perché è impossibile camminare qua poi la sera non c'è la luce dalle 9 e mezzanotte infatti c'è la candela e il generatore e vabbè non si può andare a piedi ti linciano il problema è proprio così l'europa siamo abituati male è così quindi uno può avere poi la stanza carina e tutto con la signora molto simpatica però poi c'è questo simpatico panic button io l'ho presso e arrivo in tipo con Kalashnikov così per assicurarmi